buonasera luca briasco cominciamo la seconda lezione americana benissimo allora buonasera a tutti dopo un so dopo avere proposto diciamo due autori permettendo agli interessati di fare un contest da questo contest è uscito vincitore john fante l'altro autore era ernest emingway ma in qualche maniera lo recupereremo andando poi andando avanti e procedendo in questa serie di incontri allora perché john fante e e che john fante vi voglio raccontare perché come avrete già visto con l'incontro precedente io poi non ho parlato di tutta tony morrison ma ho scelto un momento particolare della sua vita un libro in particolare e un momento della sua carriera la stessa cosa farò oggi con john fante la farò in un modo leggermente diverso perché naturalmente ogni volta il discorso il modo per portare davanti un autore a e invitare fondamentalmente alla lettura di un autore che poi è il primo scopo di queste chiacchierate ogni volta lo scopo il modo va anche un pochino sacomato sulla base del personaggio john fante è un personaggio molto particolare all'interno della letteratura americana è sicuramente ancora oggi un uno di quegli scrittori americani che sono più popolari in italia che non negli stati uniti le ragioni in parte sono ovviamente scontate hanno a che fare con l'italo americanità di fante che è figlio diciamo che un americano di seconda generazione ovvero sia il figlio di un migrante nel senso che il padre di fante si trasferisce negli stati uniti dall'originario paese di torricella peligna in abruzzo fante nasce già in america segue le varie peripezie del padre che fa fondamentalmente il muratore e poi prende progressivamente una sua strada a partire dal colorado che è il luogo dove lui comincia ancora molto giovane a scrivere una strada che lo porterà appunto alla scrittura il primo luogo e poi anche a lavorare per il cinema fante è anche uno dei tanti scrittori americani che nella prima età o età dell'oro di hollywood e fondamentalmente nell'età in cui hollywood passa dal mutuo al sonoro viene assunto come sceneggiatore capirete che ovviamente la funzione dello sceneggiatore diventa operativa a tutti gli effetti e in modo da poter coinvolgere direttamente uno scrittore nel momento in cui c'è parlato al cinema questo abbastanza scontato prima sostanzialmente il film mutuo consisteva in dilascalie e non molto di più quindi fante poi si fa una carriera diciamo hollywood una carriera piena di frustrazioni come quella di tanti altri scrittori che in quegli anni approvano hollywood pensiamo a figgerald per fare solo l'esempio più famoso pensiamo a nata nel west ma ce ne sono tanti in quegli anni che fra altre cose fante conosce quindi lui si guadagna da vivere prevalentemente attraverso l'attività di sceneggiatore anche se non realizzerà tanti film nei film memorabili a differenza di altri come per esempio faulkner che che scriverà sceneggiature famosissime quella del grande sonno per esempio fante no non ha un curriculum da sceneggiatore straordinario però è contemporaneamente mentre molti degli altri scrittori arrivano a hollywood e in realtà continuano almeno a livello di scrittura a raccontare il posto da dove vengono quindi faulkner vive a hollywood ma continua a parlare di questa fantastica contea del mississippi che in realtà non esiste ma corrisponde in larga parte alla cittadina di oxford mississippi dove faulkner era nato invece fante è e diventa a tutti gli effetti uno scrittore di los angeles cioè l'ambientazione di molti dei suoi libri e sicuramente dei libri più famosi e sicuramente dei libri che hanno come protagonista il suo alter ego letterario diciamo cioè arturo bandini sono ambientati a los angeles ci sono due momenti della carriera di fante su cui io mi soffermerò partirò da quello più tardo e poi tornerò indietro a quello che vede fante ancora giovane al momento in cui la sua carriera letteraria avrebbe forse potuto conoscere una svolta una svolta che invece non è mai accaduta almeno in america questi due momenti sono separati di 40 anni l'uno dall'altro il primo quello più vecchio è il settembre dell'autunno diciamo del 1939 il secondo momento è l'autunno del 1979 partiamo dal 1979 dall'autunno del 1979 e spieghiamo come giovane arriva all'autunno del 1979 io mi sono segnato un po di date queste date servono proprio a far capire che cos'è la resilienza cioè che cos'è questa parola di cui oggi abusiamo no e che però forse in questo momento è una parola che ci riguardano ci riguarda un po tutti cioè qual è che cos'è questo testardo attaccamento alla vita questa testarda capacità di reagire alle avversità dell'esistenza e fino a che punto può arrivare in uno scrittore che sente di nuovo a un certo punto il fuoco della scrittura che lo riprende no che lo che lo riavvolge vediamo chi è fante intanto negli anni settanta quando nel 1971 los angeles quindi il posto dove fante vive viene colpita da un terremoto fante deve aver pensato qualcosa deve già aver pensato qualcosa forse chissà un altro terremoto che ha colpito los angeles nel 1933 un terremoto terribile che viene raccontato nelle ultime pagine del romanzo di fante che a tutt'oggi è considerato il suo capolavoro ossia chiedi alla polvere nel 1971 c'è un nuovo terremoto che ha provoca diverse vittime a los angeles ma in quel momento il romanzo che ha raccontato il terremoto di quasi 40 anni prima non c'è più non esiste più è letteralmente cancellato dalle librerie è introvabile chiedi alla polvere quindi un romanzo che oggi noi consideriamo uno dei capolavori del novecento americano è fuori stampa da un sacco di tempo e non si trova più però qualche strano segnale a fante arriva poco dopo questo terremoto si presenta o lo contatta per meglio dire robert town robert town è un grande sceneggiatore americano per intenderci è lo sceneggiatore di uno dei capolavori del cinema americano degli anni settanta nonché di uno dei capolavori della sceneggiatura cinematografica che è china town di roman polansky con jack nicholson che è una specie di rivisitazione straordinaria della detective story della detective story anni trenta recuperata e riletta diciamo da polansky robert town è innamorato lì ieri alla polvere mentre faceva delle ricerche per china town e quindi faceva delle ricerche sulla los angeles di quegli anni diciamo del primo novecento si è imbattuto del libro rifante lo opziona per il cinema e questo è un qualcosa che risveglia ancora una volta infante la speranza che di questo libro si ricominci a parlare non se ne farà assolutamente niente chiedi alla polvere uscirà poi come film molto più avanti quando fante ormai è morto da tempo quindi non se ne fa nulla fante scrive in questo stesso torno di anni e in particolar modo nel 1975 quello che è il suo penultimo romanzo dell'ultimo parleremo fra poco che è uno straordinario omaggio alla figura del padre e che è la confraternita dell'uva che tra le altre cose è il libro che a me che io istintivamente consiglio a chiunque voglia cominciare a leggere fante perché secondo me è in assoluto forse il capolavoro di faranta certamente uno dei romanzi più profondi e più toccanti che fa che abbia mai mi sa che c'è qualcuno che ha il volume acceso sento dei rumuri quindi non vorrei che ecco allora scrive la confraternita dell'uva la confraternita dell'uva viene anch'esso opzionato per il cinema sempre da robert town il quale lo propone a un altro personaggio di un certo peso diciamo nell'america degli anni settanta che è francis for coppola il quale per un po pensa che prima pubblica diciamo la confraternita dell'uva appuntate su siti che era questa specie di rivista letteraria che coppola aveva in quegli anni e pensa anche di farci un film tutte queste illusioni non portano a nulla non è mai stato fatto un film sulla confraternita dell'uva quindi fante sperimenta in qualche modo in prima persona quello che ha visto accadere tante volte a hollywood mentre ci lavorava le tante sceneggiature che gli hanno fatto scrivere che non sono mai approvate a un film ma voi sapete che il cinema si legge su questo cioè tanti progetti pochi che arrivano al traguardo finale nel frattempo però succede una cosa ben peggiore la salute di fante che è fondamentalmente compromessa dal diabete un diabete che sicuramente fante non ha combattuto in vita anzi ha alimentato con abitudini soprattutto di tipo alcolico che lo accomunano all'alto all'escluso diciamo della giornata di oggi cioè a emigüe fante comincia a stare male seriamente comincia a avere dei seri problemi sia di vista sia soprattutto di deambulazione questi problemi lo portano in una specie di spaventoso crescendo fra lesioni appunto alle gambe ai piedi e calo della vista a questa serie di eventi che adesso vi vado proprio a elencare perché secondo me nulla parla meglio dell'elenco il 23 gennaio del 1977 gli vengono amputate due dita una una gamba e una all'altra il 25 giugno del 1977 gli viene amputata la gamba sinistra nel novembre del 1977 viene operato di glaucoma all'occhio e nel giugno del 1978 sarà completamente cieco non vede più il 10 luglio del 1978 ha un episodio di allucinazioni in casa sapete uno degli effetti del diabete è proprio anche sono anche effetti sulla lucidità cerebrale quindi allucinazioni e paranoia in casa viene ricoverato il 20 luglio un medico dell'ospedale dove fante è ricoverato dice alla moglie suo marito può vivere una settimana come sei mesi ma non più di sei mesi questa è la situazione in cui a un certo punto fante un giorno di settembre del 1978 chiede alla moglie di portarlo fuori nel in questa specie di veranda quelle verande americane che avete visto in tanti film e di portarsi dietro carta e penna dal settembre al novembre dicembre diciamo primi di dicembre viene dettato a louise alla moglie di fante viene dettato il romanzo che sarà sogni di bunker hill e che è l'ultimo romanzo della vita di john fante dopo quel romanzo che uscirà poi nel nell'ottantuno fante la salute di fante peggiora ancora subisce anche la seconda amputazione è ridotto su una serie a rotelle trascorre l'ultimo anno e mezzo di vita ricoverato finché non si spegne poi l'otto maggio del 1983 questo romanzo scritto da un uomo cieco che non vede più che può solo dettare che non è neanche più in condizioni di camminare è un romanzo straordinario di una vitalità spaventosa ed è dall'incipit diciamo di quel romanzo che io voglio partire per poi tornare indietro e raccontarvi delle cose sulla stranezza anche dei sogni di bunker hill cioè sulla stranezza della scelta che sa che fante fa in questo momento il momento in cui sta combattendo in qualche modo la sua ultima battaglia per creare la sua ultima battaglia per la letteratura questo è proprio l'incipit di sogni di bunker hill poi vi dirò brevemente di che parla ma forse non è neanche così importante sarà bello che ve lo scopriate nel momento in cui andate a prendere il libro e a leggerlo il mio primo impatto con il successo non fu per nulla memorabile facevo l'aiuto cameriere alla tavola calda di marx l'anno era il 1934 il luogo l'incrocio fra la terza e il los angeles avevo 21 anni e per me il mondo era delimitato a ovest da bunker hill a est da los angeles street a sud da pershing square e a nord dal civic center ero un aiuto cameriere veramente unico con grande verde molto stile vista la professione e sebbene fossi terribilmente sottopagato un dollaro al giorno più i pasti attirava una considerevole attenzione quando scivolavo fischiettando di tavolo in tavolo con un vassoio in equilibrio su una mano strappando sorrisi ai miei clienti oltre all'abilità di cameriere avevo anche altro da offrire ai miei avventori poiché era uno scrittore la notizia si seppe un giorno dopo che un fotografo ubriaco dell'os angeles times si fu seduto al bar e mi aveva fatto qualche scatto mentre servivo una cliente che mi guardava con ammirazione il giorno dopo c'era un servizio speciale allegato alla fotografia del times parlava della battaglia e del successo del giovane arturo bandini un ragazzo del colorado ambizioso e gran lavoratore che si era aperto un barco nel difficile mondo dell'editoria con la vendita del suo primo racconto a the american phoenix diretto naturalmente dal più celebre personaggio della letteratura americana niente meno che heimlich miller buon vecchio miller quanto amavo quell'uomo in verità i miei primi sforzi letterari erano stati delle lettere nelle quali gli chiedevo un parere gli mandavo tracce di racconti che avrei potuto scrivere e infine proprio racconti molti racconti un racconto a settimana fino a che anche anche miller orso del mondo letterario tigre nella tana sembrò arrendersi e si degnò di mandarmi una lettera di due righe e poi un'altra lettera di quattro righe e infine una lettera di due pagine con 24 righe e poi meraviglia delle meraviglie un assegno di 150 dollari a saldo del mio primo lavoro accettato ora questo è l'incipit di sogni di bunker hill quindi abbiamo un giovane scrittore che fa il cameriere che viene fotografato più o meno inopinata mente e che in realtà insomma fondamentalmente ha pubblicato un racconto un racconto su questo di american phoenix dopo aver perseguitato il direttore del giornale come ci racconta anche con una certa comicità con un certo brio al punto che esasperato il direttore del giornale vi ha risposto e poi alla fine a furia di leggere racconti li ha trovato anche uno buono naturalmente alle spalle di arturo bandini c'è john fante tutti gli scritti tutti gli scritti quasi tutti i romanzi di fante ad una forte patrice autobiografica in effetti dietro questo anric muller si nasconde henry louis manken cioè il grande patrono delle arti e della letteratura americana negli anni 20 soprattutto tra i 20 e i 30 che è un personaggino di poco conto nel senso che diciamo che è uno che fra le varie riviste che dirigeva una di queste riviste si chiamava black mask ed è la rivista in cui hanno pubblicato emmett chandler per intenderci sullo spessore del personaggio la cosa però più interessante è che invece di scrivere una storia nuova fante decide con sogni di bunker hill almeno per certi aspetti di riscrivere una storia antica noi abbiamo già visto arturo bandini a 20 21 anni abbiamo già visto questo giovane irriverente brioso iracondo che frequenta questa bunker hill che di fatto nella geografia della los angeles di quegli anni è un po il basso il basso fondo diciamo dove spesso vivono gli scarti di hollywood certamente non i vincenti di hollywood che hanno già ville prestigiose hanno già ville a beverly hills e via dicendo questo personaggio noi lo abbiamo visto e lo abbiamo visto esattamente 40 anni prima che fante si metta seduto su quella veranda a dettare il suo ultimo romanzo alla moglie e l'abbiamo visto per l'appunto nel romanzo che è e rimane per tutti tranne che per me che preferisco la confraternita dell'uva ma pazienza però rimane certamente il capolavoro riconosciuto rifante che è chiedi alla polvere chiedi alla polvere si apre in un modo molto 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 simile a quello che abbiamo appena che abbiamo appena letto se io vi leggo l'incipit di chiedi alla polvere siamo di nuovo a bunker hill ci sarà anche anche qui il ristorante e io vi leggo solo la prima pagina di chiedi alla polvere una sera me ne stavo a sedere sul letto della mia stanza d'albergo a bunker hill nel cuore di los angeles era un momento importante della mia vita dovevo prendere una decisione nei confronti dell'albergo o pagavo o me ne andavo così diceva il biglietto che la padrona di casa mi aveva infilato sotto la porta era un bel problema degno della massima attenzione lo risolsi spegnendo la luce e andando bene a letto al mattino mi svegliai decisi che avevo bisogno di un po di esercizio fisico e cominciai subito feci parecchie flessioni poi mi lavai i denti senti in bocca il sapore del sangue vidi che lo spazzolino era colorato di rosa mi ricordai cosa riceva la pubblicità e decisi di uscire a prendermi un caffè andai al solito ristorante mi sedetti su uno scabello davanti al bancone ordinai un caffè il sapore era più o meno quello ma nel complesso la bevanda non valeva quello che costava mentre ero lì seduto mi fumai un paio di sigarette lessi i cartelloni che riportavano i risultati delle partite dell'american league evitando con cura quelli della national league e notai con soddisfazione che joe di maggio teneva ancora alto l'onore degli italiani perché era in testa la classifica dei battitori un grande battitore quel di maggio uscì dal ristorante mi immobilizzai davanti a un immaginario lanciatore e battei la palla segnando un punto a mio favore poi mi incambinai verso angels flight domandandomi come avrei passato la giornata non avevo niente da fare e così decisi di andarmene a sonzo nella città questo è arturo bandini 40 anni prima da un punto di vista delle pubblicazioni ma in realtà assolutamente coetaneo dell'arturo bandini di sogni di bunker hill arturo bandini a vicende diverse ma anche una cosa in comune anche l'arturo bandini di sogni di bunker hill ha un racconto in mano che si chiama il cagnolino rise e gira importunando più o meno il prossimo con queste copie di questo racconto che finalmente è stato pubblicato da una rivista quindi la situazione come vedete è perfettamente identica sia il giovane scrittore che appena pubblicato un racconto e che quindi con la presunzione della gioventù o l'entusiasmo della gioventù vede il mondo aprilisi davanti ora quello che io personalmente trovo straordinariamente commovente in questa vicenda è proprio l'idea di quest'uomo che ormai ormai vicino alla morte e sa di essere vicino alla morte anziché scrivere un libro crepuscolare no scrivere un libro sulla vecchiaia sul sentore della morte sceglie come ultimo libro da scrivere lui sa perfettamente che quello sarà il suo ultimo libro perché lo sa scrive un omaggio alla sua carriera di scrittore un omaggio al libro che ama di più fra quelli che ha scritto il libro su cui lui ha puntato tutto e che invece è stato sputato via no dal sistema editoriale al punto che non lo si trova più che è letteralmente fuori stampa ed è come se non riscrivesse quel libro ma omaggiasse quel libro poi i due romanzi a partire da questa premessa vanno in due direzioni diverse tra le altre cose sogni di bunker hill è anche un romanzo divertentissimo feroce e spietato sul mondo di hollywood l'unico romanzo che mi viene da paragonare in qualche modo a sogni di bunker hill è un romanzo pubblicato tanti anni prima da un amico di fante uno scrittore che fante conosceva hollywood che era natale west ed è il giorno della locusta che è probabilmente il libro su hollywood più acre più feroce ma anche quello di fante di sogni di bunker hill è straordinario sono pagine intere in cui si racconta fante che ha un ufficio viene pagato per fare lo sceneggiatore fondamentalmente in realtà viene pagato per non fare niente sta in questo ufficio gli viene di vengono dati dei libri da leggere viene dato un libro a sceneggiare lui naturalmente investe sul suo lavoro di sceneggiatore la stessa passione che investe sul lavoro da scrittore finché non si rende conto che il sistema del cinema è fatto per masticarla la creatività degli sceneggiatori e buttarla via fante avrà sempre un'amarezza profonda nei confronti di hollywood amarezza accentuata paradossalmente dal fatto che hollywood dato da mangiare spesso e volentieri visto che fante non ha mai guadagnato tantissimo con i suoi libri i suoi libri però appena detto che fine hanno fatto insomma molti non si trovano neanche più l'unico libro di fante ad avere un certo successo commerciale è full of life è forse anche il suo libro più ottimista più gioioso che è fondamentalmente una storia bellissima storia di amore coniugale ma quando gli umori di fante diventano più acri ecco che lì in qualche maniera il pubblico ma soprattutto l'ambiente territoriale non lo segue più c'è da domandarsi il perché delle sorti e del fallimento di chiedi alla polvere ci sono tante ragioni sicuramente chiedi alla polvere fra le altre cose rovinato dal fatto che esce nel 1939 quindi chiaramente esce all'improvo all'inizio della seconda guerra mondiale questo certamente non lo aiuta non lo aiuta nemmeno la grande sfortuna di uscire quasi in contemporanea con un libro che farà assolutamente in pieno dell'interesse della passione dei lettori che è fulore di steinbeck che è il capolavoro di quell'anno e che oscura chiedi alla polvere eppure chiedi alla polvere nella sua ferocia fa delle cose che lo stesso steinbeck forse non è in grado di fare una delle cose che chiedi alla polvere realizza e che è rarissimo vedere rappresentato nella letteratura americana un tema che è ancora così profondamente attuale in america e non solo e non solo ovvero sia la guerra dei poveri la guerra dei poveri che viene in qualche modo quasi sempre e a volte in modo calcolato orientata verso temi di ordine razziale il centro del romanzo rifante intendo chiedi alla polvere è questa storia d'amore contrastata con questa cameriera messicana nei confronti della quale arturo bandini a sua volta italiano e non è che diciamo negli anni negli anni 30 gli italiani fossero perfettamente integrati ancora nel contesto americano che bandini disprezza su basi razziali su basi razziali quindi in questo lo sguardo anche chiamiamolo così sociale di fante che pure non ha la sensibilità progressista di tanti altri autori di quegli anni non ha la sensibilità progressista di steinbeck neanche quella delle emingue di perché sono alla campana però alle volte come spesso succede chi ha invece idee politiche diciamo meno progressiste spesso chi ha lo sguardo più lucido sul sullo scarto ovvero sia sull'elemento della società che più subisce la pressione che più subisce proprio la violenza che deriva dalla corsa all'oro dalla corsa alla ricchezza dalla corsa per prendere l'ultimo ascensore sociale su cui è basata diciamo la l'america e anche nonostante il new deal l'america degli anni 30 ecco questo questa traiettoria questi due romanzi che si guardano l'uno con l'altro a 40 anni di distanza sono per me quanto di più straordinario sia dato trovare nella letteratura americana intanto non conosco precedenti simili cioè questa è letteralmente una storia narrata due volte la letteratura americana è piena agli scrittori che raccontano la stessa storia due volte othorn uno dei grandi scrittori americani dell'ottocento addirittura pubblica una raccolta di racconti che si intitola twice tall tales cioè racconti narrati due volte carver molti di voi se lo ricorderanno ecco che potrebbe essere oggetto di una delle prossime lezioni sicuramente carver è uno che molto spesso il racconto lo ha scritto anche tre volte un po perché lo modificava lui un po perché qualcun altro come mai racconteremo una delle prossime volte glielo modificava contro il suo parere e senza neanche sentirlo ma nessuno scrittore si mette a riscrivere la stessa storia 40 anni dopo ma la stessa letteralmente arturo bandini a di nuovo vent'anni a di nuovo vent'anni e questa è la cosa sorprendente un uomo di ormai ormai anziano ma soprattutto ancora più anziano di quanto non dica l'anagrafe proprio le ragioni di salute che ho provato un po raccontarvi che decide di fingere in qualche modo che i 40 anni non siano mai passati e dire ok io rendo rendo omaggio a me stesso e rendo omaggio al me stesso però a quel pezzo della mia storia a quel pezzo della mia vita che nessuno ha voluto capire quindi non al romanzo di amore coniugale che ha avuto successo non alla storia del padre che ha raccontato anche quella due volte in qualche modo prima in aspetto a primavera bandini e poi di nuovo della confraternità dell'uva ma in modo molto diverso no questa volta decide di raccontarsi giovane e questo è ancora più interessante perché scusate ma dovrei trovarlo subito lui in realtà la sua morte l'ha già raccontata curiosamente e questo è un altro aspetto della traiettoria di john fante scrittore è secondo me particolarmente affascinante in realtà nella confraternità dell'uva in cui si racconta la morte del padre in questo caso il protagonista si chiama nick molise molise guardate che cognome molise è il secondo alter ego di fante dopo bandini allora nella confraternità dell'uva si racconta un incontro tardivo in parte anche di riconciliazione con il padre con cui in realtà fante ha avuto un rapporto contrastatissimo durante la sua adolescenza è un certo punto c'è la seguente scena che oltre a essere una scena straordinaria ve la voglio leggere anche solo per quello è la scena in cui in qualche modo fante nel 1975 quindi quattro anni prima di sedersi su quella veranda ha già messo in scena la sua morte questa questo è il momento diciamo l'occasione è nick molise che raggiunge il padre lo va a trovare il padre ormai vive lontano lo va a trovare e lo aiuta a costruire un essiccatoio per la carne allora la scena è la seguente poi accadde qualcosa di singolare mio padre morì eravamo lì che ce la che ce la lavoravamo dura mischiando malta e sassi e tutto a un tratto ebbi la sensazione che avesse lasciato questo mondo gli esaminai il volto e ce l'aveva scritto sopra i suoi occhi erano aperti le mani si muovevano era ancora lì che spalmava malta ma era morto e nella morte non aveva più nulla da dire di quando in quando come uno spettro lo vedevo pagare tra gli alberi per farsi una pisciatina come poteva essere morto mi domandavo e continuare a pisciare ormai era un fantasma era partito era cadavere volevo chiedergli se si sentiva bene se per caso era ancora vivo ma ero troppo stanco e troppo impegnato a morire per conto mio troppo stanco per mettere insieme delle frasi la domanda riuscivo a vederla sulla carta battuta a macchina con tanto di virgolette verbalizzarla era troppo pesante e del resto che cosa sarebbe cambiato tutti prima o poi dovevamo morire ora questa scena al di là della bellezza lancinante di questa scena chiaramente in realtà il padre non sta morendo questo è evidente è lui che lo vede morto in realtà il padre sta ancora impastando la malta sta ancora lavorando è proprio la premonizione di quello che succederà più avanti nel romanzo il padre morirà ma la sua morte quello che ne segue diventerà una festa perché la confraternita dell'uva ovvero sia la banda di amici ubriaconi che hanno probabilmente portato il padre alla morte il padre padre muore quasi di delirio alcolico sono gli stessi che però poi dopo riescono a mettere in mezzo perfino nick in una specie di grande e dionisiaca festa in nome della vita e questo era il momento in cui in realtà il il padre di nick morise è morto quindi questa è la scena in cui fante mette mette ci mette davanti la la proprio la premonizione della propria morte no il finale tutti prima o poi dovevamo morire è in qualche modo il sigillo dopodiché fante nel momento in cui tutto sembra portarlo verso ciò che ha intravisto già qualche anno prima fratelli al guva viene scritto nel 75 fante comincia ad avere qualunque cosa letteralmente ricordatevi l'elenco che vi ho dato prima eppure eppure esce su quella veranda ed esce su quella veranda perché alla fine l'unica cosa che lo salva e che lo salverà ancora per anni per cui appunto viene dato per morto da un medico di ospedale che gli danno gli da sei mesi di vita e in realtà rispetto al momento in cui gli vengono dati quei sei mesi di vita fante vivrà altri quattro anni nonostante tutto in condizioni sempre peggiori ma con un tenace attaccamento alla vita ecco diciamo che tutto questo è come se fosse in nuce già contenuto in nuce in queste due scelte di questi due libri con fratelli dell'uva da una parte la morte l'omaggio al padre la riconciliazione e poi di nuovo gli eroi figurori di antorio bandini di arturo bandini evocati per l'ultima concludo questa breve questa breve lezione dicendo però che cos'è successo a chiedere la polvere perché appunto l'altra cosa importante interessante che alle volte davvero il riscatto dello scrittore passa per la tenacia dello scrittore e passa per le parole di altri scrittori allora che cos'è che succede che a un certo punto charles bukowski quindi un altro grande scrittore vitalista maledetto iracondo ubriacone che ha molti punti in comune con fante l'unica differenza che fante era un family man diciamo quindi un uomo che comunque si è sposato ha avuto figli ha avuto questa grande famiglia bukowski è praticamente è rimasto un cane sciolto per tutta la vita ma se non per il resto i due personaggi hanno molti punti di somiglianza e sono sicuramente insieme a chandler i tre grandi scrittori di los angeles che il novecento americano avuto sicuramente bukowski è l'altro che va aggiunto e sicuramente bukowski c'è di nuovo un ecco allora è bukowski che per esempio a certo punto ha scritto hollywood uno dei suoi ultimi libri hollywood è anche un omaggio sicuramente a sogni di bunker hill quindi ci sono molte somiglianze fra loro ma adesso la cosa interessante che riguarda bukowski è che bukowski a un certo punto comincia a parlare di fante addirittura a dedicare a fante alcuni dei suoi libri alcuni dei libri di poesie e via dicendo finché a un certo punto il suo editor nella piccola casa editrice la black sparrow press che è la casa editrice che pubblica bukowski gli dice ma tu parli sempre di questo fante ma quando è che mi fai avere soprattutto questo libro per il quale sei totalmente fissato che è sogni di bunker hill a quel punto bukowski dice guarda non si trova allora viene fatta una ricerca disperata per rimediare una copia di sogni di bunker hill tenete presente scusate di chiedi alla polvere tenete presente che ovviamente non siamo ancora nell'era di internet è di là da venire quindi l'unico posto dove si possono trovare i libri sono le biblioteche c'è un'unica copia di richiedi alla polvere alla civic library di los angeles viene fotocopiata portata all'edito della black sparrow press che prende immediatamente il titolo e lo pubblicherà poi dopo nel 1981 ok allora cosa dice a un certo punto bukowski nella prefazione perché lui scrive una prefazione alla nuova edizione richiedi alla polvere e racconta proprio la circostanza in cui lui va a cercare diciamo questa edizione richiedi alla polvere no e la trova per la prima volta in biblioteca ed eccolo lì rimasi fermo per un attimo a leggere poi mi portai il libro al tavolo con l'aria di uno che ha trovato l'oro nell'immondezzaio cittadino le parole scorrevano con facilità in un flusso ininterrotto ognuna aveva la sua energia e della seguita da un'altra simile la sostanza di ogni frase dava forma alla pagina e l'insieme risultava come scavato dentro di essa ecco finalmente uno scrittore che non aveva paura delle emozioni ironia e dolore erano intrecciati tra loro con straordinaria semplicità quando cominciai a leggere quel libro mi parte che mi fosse capitato un miracolo grande e inatteso ora questo miracolo che accade a bukowski è un miracolo che poi da bukowski dall'edizione della black sparrow press diventa un miracolo collettivo chiedi alla polvere oggi tutt'oggi in italia è uno dei classici della letteratura americana del novecento più letti credo che l'unico romanzo del novecento americano che sia più letto in italia richiedi alla polvere sia il buio oltre la siepe ma credo che chiedi alla polvere sia grossomodo al secondo posto da quando viene pubblicato intascabile viene pubblicato prima a marcos i marcos poi a un certo punto tutti i titoli vengono presi in italia dai naudi che ripubblica attualmente chiedi alla polvere nell'edizione in audi ha venduto più di centomila copie è molto raro che un classico abbia questa vita credo che il l'omaggio che fa bukowski è uno strano omaggio a specchio cioè quando parla di ironia e dolore quando parla di energia quando parla di un flusso in interrotto di creatività sta raccontando esattamente quello che deve essere necessariamente successo in quella veranda dietro la casa rifante quando lui seduto senza potersi muovere e completamente cieco detta alla compagna della sua vita che troppe ne ha dovute sopportare poverina detta questo ultimo romanzo ecco a me questi mai ti trovo questa immagine così iconica così commovente che è anche un'immagine che in un momento come quello che stiamo un po vivendo tutti quanti è un'immagine che è anche una un ideale fonte di ispirazione ovvero sia è la consapevolezza di quanto un essere umano attingendo alle proprie risorse alla propria creatività alla propria passione dominante che per quanto è sempre stata la scrittura riesce a non solo ingannare il tempo perché fante combatte una battaglia contro il tempo e inganna il tempo per un po riesce per un po a reggere e tenete presente che una gamba non ce l'aveva e l'altra la incancrena già allora e infatti poi gli verrà tagliata gli verrà amputata di lì a non molto ecco però riesce a combattere questa battaglia contro il tempo riesce in qualche modo a vincerla e nel momento in cui la vince risorge anche come scrittore risorge non solo per effetto del romanzo che detta ma anche perché in questo strano mondo nello stesso torno di anni in cui lui se ne sta andando qualcuno si ricorda di lui e questo qualcuno è il signor bucoschi ecco questa è la storia vi volevo raccontare che è una storia con una serie di elementi e di spunti a cui poi si aggiunge ovviamente l'invito a leggere il romanzo del 39 a leggere il romanzo del 79 a leggere almeno la confraternità dell'uva almeno questi tre perché questi tre sono libri capitali cioè sono quei libri che non hanno età sono libri che leggono i ragazzi di 15 16 anni perché io conosco ragazzi di 15 16 anni che l'hanno letti e che davanti a chiedi alla polvere sono innamorati perché si sono riconosciuti perché in quegli eroici furori si riconoscono ma ci sono anche tanti adulti che attraverso quegli eroici furori si ricordano di che cosa sono stati perché tutti noi siamo stati arturo bandini ciascuno a proprio modo in un momento della propria vita ed è raro trovare uno scrittore che eroga quel momento anche quando appunto non c'è più non c'è quasi più eppure ancora quel momento che si aggrappa a distanza di 40 anni benissimo grazie Luca io adesso chiudo la registrazione e apro però la chat per le domande